Buongiorno a tutti, benvenuti alla nostra consueta analisi sugli indici, settimana 18 del 2021, performance come vedete tutte positive oltre l'1%, escludendo il Nasdaq che ha perso l'1% ed è l'unico dei listini che al momento rimane in single digit gain per l'anno in corso. Tutti gli altri listini stanno tra il più 10% e 7% di piazza affari e il più 13,63% del Dow Jones. Tornano gli acquisti sui principali listini e come visto solo i tecnologici sono in difficoltà, ma oltre ad una rotazione tra i titoli value e i titoli growth si deve considerare anche che la scarsità di chip sta causando problematiche di produzione alle aziende tecnologiche. Tanto è vero che a Wall Street abbiamo nuovi massimi storici per Dow Jones e SP500. Milano e DAX proseguono a crescere, sono ora in doppia cifra per l'anno come abbiamo visto, l'economia mondiale sta recuperando e pertanto aumentano i timori di una nuova salita dell'inflazione come già era accaduto nelle scorse settimane. Ma da un lato abbiamo i banchieri centrali, soprattutto Powell, che continuano a dire che lasceranno i tassi fermi per lungo tempo e che non si faranno creare problemi da qualche piccola fiammata di inflazione come abbiamo veduto qualche settimana fa, ma sia Powell che Lagarde hanno detto che aspetteranno conferme certe della ripresa della piena economia, della piena ripresa del mondo del lavoro per iniziare a modificare la propria politica monetaria e pertanto iniziando una manovra prima di tapering e poi un successivo rialzo di tassi. Il mercato pare non credere alle parole dei banchieri centrali e preferisce, pare, infiammarsi per la dichiarazione della Yellen o di Kaplan che dicono che attualmente un rialzo dei tassi sia necessario per evitare che poi l'inflazione colpisca forte. A tal riguardo basta guardare cosa è successo nella seduta di martedì quando il segretario del tesoro USA, la Yellen, ha parlato, salvo poi ritrattare nel pomeriggio e avete visto cosa è successo nella seduta di martedì con una seduta che praticamente nella prima metà della mattinata, parlo qui dei listini europei, stava andando in un laterale e come è stato il discorso della Yellen hanno cominciato a picchiare giù, Milano ad esempio martedì scorso è scesa dai 24.500 a fin sotto i 24.000 punti. La Yellen si è poi dovuta parzialmente correggere e alla fine il dato dei non farm payrolls di venerdì dove vi era un'attesa per un milione di posti di lavoro, ha dimostrato che con i 266.000 nuovi posti di lavoro creati ha confermato quella che è la visione di Powell, ossia che in questo momento non ci dobbiamo far portare fuori strada da qualche dato di inflazione, ma dobbiamo aspettare che effettivamente ci sia un ritorno del lavoro in maniera stabile e sostanziale. Questo dovrebbe confermare quindi che per il mercato azionario ci sia ancora spazio di crescita, spazio di salita, in quanto la grande liquidità presente in questo momento non trova rendimenti interessanti nello mercato obbligazionario con i tassi così bassi. Quindi segneremo infine il dibattito che si sta aprendo a livello mondiale dopo l'apertura del Presidente americano Biden per una sospensione temporanea dei brevetti sui vaccini, apertura che vede Putin essere d'accordo con Biden ed invece la Merkel decisamente contraria. Vedremo come proseguirà questo dibattito politico, fermo restando che abbiamo già letto in giro che ammesso e non concesso che si arrivi alla sospensione dei brevetti, non è certo questo che porterà ad un incremento dei vaccini sui mercati, almeno non prima di due anni, quindi ampiamente fuori tempo massimo. Iniziamo a guardare i grafici, facciamo come sempre partiamo da Piazza Affari, dopo due settimane di cali come vedete Piazza Affari ritrova una candela verde, ma soprattutto trova alcune importanti di tecnicità, la tenuta del supporto ai 24.080 punti e l'aver passato la resistenza dei 24.558 alla resistenza storica andando a chiudere a 24.612 punti con volumi in aumento e che sono tornati sopra la media. Questo è quello molto importante, una rottura della resistenza confermata dai volumi. Ricordiamo, e su questo chi ci segue già lo saprà, che lunedì 24 verranno staccati oltre 200 punti di indice di dividendi a Milano e pertanto sarà di fondamentale importanza per l'indice di casa nostra arrivare dopo lo stacco a rimanere sopra questo livello dei 24.558, pertanto è più che opportuno per Piazza Affari nelle prossime due settimane avvicinarsi alla soglia dei 25.000 punti in modo tale che, fatto salvo lo stacco dei dividendi, si rimanga comunque in area 24.7, 24.8 e pertanto poter avere prospettive di un secondo semestre positivo avendo a quel punto effettivamente molto spazio per salire. Quindi questa candela, la rottura della resistenza e soprattutto con volumi, quindi gli investitori sono arrivati cui hanno visto il movimento buono, potrebbe essere la volta buona che in questo sell in May e go away si possa rivedere. Ricordiamo infine che in chiusura di settimana anche l'agenzia Moody's ha lasciato invariato il rating solitalia con Outlook stabile e pertanto per il momento i nostri titoli di stato sono tranquilli. Andiamo a vedere il Dax che nonostante abbia avuto una performance leggermente meno brillante di Milano, Milano più 1,95, Dax più 1,74, ma la candela che ha lasciato sul grafico denota decisamente una maggior forza. L'apertura del Dax era già stata positiva in quanto superiore alla chiusura della settimana precedente, poi però aveva ceduto ai minimi, come vedete delle due candele, era sceso, sceso anche abbastanza, salvo poi girarsi e risalire, anche qui con volumi in crescita rispetto alle settimane precedenti e tornati sopra la media, andando a chiudere in prossimità dei massimi della settimana e sopra il massimo della candela precedente. Quindi decisamente un ottimo segnale di forza per il Dax. In primo livello di supporto a questo punto possiamo ancora tenere i 15.000 punti che erano i minimi allineati delle due candele precedenti, pur essendo sceso sotto alla fine in chiusura ha tenuto, pertanto primo supportino dei 15.000 punti che ha tenuto e nel momento in cui Dax riuscirà a portarsi sopra i 15.500 punti, quindi manca un centinaio di punti, a questo punto poi avrà spazio per arrivare fino alla rialzista, come vedete che passerà in area 15.900 punti settimana prossima, rialzista che vedete per tutta la fase a cavallo di fine inizio 2021 era stata veramente una resistenza tenace ai movimenti del Dax, vediamo se tornerà ad esserlo, ma intanto poi bisogna avvicinarsi e quindi area 15.900 in questo momento potrebbe essere un primo target per il listino tedesco. Andiamo a vedere la situazione a Wall Street dove le trimestrali continuano ad essere positive, ma a fronte di dati positivi vediamo che ci sono delle guidance negative, del resto molte società hanno fatto molti utili adesso perché il lockdown ha portato le persone a stare in casa e quindi ad avere necessità di una certa serie di servizi, ma con la riapertura in America sono veramente molto avanti con le vaccinazioni quindi con la riapertura e il ritorno ad una pseudo normalità per il momento chiaramente torneranno a modificarsi determinati comportamenti, determinati abitudini. Questa settimana peraltro è stato molto particolare, abbiamo letto alcune interviste di alcuni SEO e alcuni di essi sono veramente stufi di fare riunioni online, la più simpatica se vogliamo è stata l'intervista del CEO di Zoom che con il suo software praticamente ha permesso queste riunioni online, ma non è il solo, anche il SEO di JP Morgan si è detto stufo, di fare riunioni online, non vedo l'ora di poter tornare almeno due giorni su cinque in ufficio perché non è possibile stare sempre in riunioni online. E tra parentesi molti di questi SEO hanno detto che cercheranno di evitare in tutti i modi di fare diventare le proprie aziende che lavoreranno in smart working totale perché vanno a creare una sorta di alienazione per l'essere umano. Pertanto questa pandemia ha provocato sì una veloce accelerazione allo smart working per moltissime aziende, ma contestualmente ha dimostrato che troppo smart working fa male per cui si dovrà come sempre alla fine trovare la via di mezzo. Andiamo a vedere quindi quello che è successo sui listini, questo è il Dow Jones che è stato il migliore dei listini con un più 2,66%, come vedete è aperto più o meno in prossimità della chiusura della scorsa ottava, ha testato con precisione la rialzista, il supporto dinamico e dopodiché è ripartito a rialzo andando a stracciare tutti i precedenti record, adesso è arrivata al nuovo massimo di 34.811, ha chiuso una quarantina di punti sotto. Unica cosa in America i volumi non sono stati come in Europa, sono stati leggermente in calo rispetto alla settimana precedente, per cui questo è l'unico campanello di allarme, ci sono stati appunto dei buoni movimenti, ma non sono stati accompagnati dai volumi come in Europa. Vedremo pertanto come proseguirà nella prossima ottava, se ci sarà un ulteriore allungo e se sarà accompagnato dai volumi o se in realtà ci rimane ancora un po' di cautela. Andiamo a vedere l'indice tecnologici, il Nasdaq che come visto è l'unico indice che è andato in negativo, del resto l'apertura è stata quasi in linea con la scorsa settimana, è stato praticamente quasi il massimo della settimana, vi è stata una discesa, non ha chiuso completamente questo gap di inizio aprile, il massimo era 13.333, questa settimana abbiamo registrato un minimo a 13.396 quindi rimangono ancora una sessantina punti di Nasdaq aperto, vi è stato anche un discreto recupero perché l'overshadow è bella nitida, ma non è riuscito a recuperare i 13.800 in chiusura. Vedremo pertanto se è solo una questione che è mancata a ipotesi qualche ora, per cui già all'inizio della prossima settimana recupererà i 13.800 e andrà a puntare immediatamente al massimo storico di 14.073 o se invece i listini tecnologici proseguiranno nella loro debolezza e allora si andrà prima a chiudere il gap a 13.333 punti. Anche sul Nasdaq come vedete i volumi non sono stati elevati, ma sono rimasti in linea con quelli della scorsa ottava. Passiamo infine a vedere SP500 che ha aperto meglio della chiusura della scorsa settimana, dopodiché è sceso ma si è allineato ai minimi delle candele precedenti in area 14,4 mila e cento punti, dopodiché è partito al rialzo e registrato un nuovo massimo storico a 4.238 per andare a chiudere a 4.232 punti. Vorremmo ricordare a tutti il nostro progetto Alice e l'associazione amiloidosi italiana, sono due associazioni a cui teniamo molto, se volete destinare il vostro 5 per 1000 o anche fare una donazione, se venite sul nostro sito mactrader.it slash trading solidale troverete tutti i riferimenti per fare la vostra donazione. Con questo è tutto e vi ringraziamo e buona domenica.